Trump vince le elezioni negli Stati Uniti e Bitcoin arriva ai massimi storici, rompendo il livello di resistenza più importante degli ultimi mesi, che era intorno ai 74 mila dollari. Lo brecca con grande forza nella giornata di ieri con un più 9%, ma non è il solo, perché anche le altcoin hanno fatto numeri stellari e si è mossa anche un po' Ethereum e si porta in all time high. Ma cosa ha promesso Trump al movimento crypto, chiamiamolo così? Quali sono le promesse che Trump ha fatto per l'industria crypto? Come queste potrebbero essere messe in atto? Sono effettivamente veritiere o meno? C'è qualcosa che potrebbe non funzionare? Lo vediamo in questo video, oltre ad analizzare ovviamente tutto quello che è successo nella giornata di ieri, giornata veramente importantissima, è sulla scia di quelle che erano le precedenti fasi di Burrani, chi se le ricorda, nel 2017 e nella fase del 2021, di quando Bitcoin saliva a punti del 10%, quindi a botte del 10%, faceva questi pump stellari, che erano praticamente quasi giornalieri. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, sono a Dubai ragazzi perché ci sarà una conference di Bybit, siamo qui insieme a tantissimi creator in tutto il mondo e quindi nella giornata di ieri purtroppo ero offline, perché ero appunto in aereo, quindi sono stato chiuso praticamente e seguivo man mano quando potevo le news, ma ovviamente già era evidente la vittoria di Trump dalla nottata. Allora, Trump diventa per la seconda volta presidente degli Stati Uniti e delle cose sono cambiate, anche a livello macroeconomico, ma di questo magari ne parliamo in un video dedicato, perché sono successe delle cose importanti, tra cui per esempio l'inalzamento del livello del tasso di rendimento del decennale e ventennale degli Stati Uniti, dei bond, anche se effettivamente non è una cosa successa proprio nella giornata di ieri, ma già si muoveva questo segno anche che l'elezione del presidente Trump era praticamente già data per certa dagli istituzionali, questi sono movimenti solo e unicamente progettati da parte degli istituzionali, perché sono i bond degli Stati Uniti di Treasury e a parte questo invece c'è stato anche un rafforzamento del dollaro e questo dice anche una cosa molto importante, perché il dollaro in questa settimana si è andato a leggermente rafforzare, nonostante questo Bitcoin ha raggiunto appunto i suoi massimi storici, quindi significa che questo 9% è a prescindere dalla debolezza del dollaro, quindi veramente molto molto forte. Da un punto di vista di analisi ciclica ne avevamo parlato, c'è un scenario che era uno scenario un po' diverso dal solito, che era appunto quello che io nell'ultima analisi ho detto, sicuramente il mercato poi è quello meno probabile, farà effettivamente questo, ma erano chiaramente dati che dipendevano dalle elezioni, questo era evidente diciamo in questa fase, ne avevamo appunto parlato, ma una cosa del genere poi lascia spazio nei prossimi giorni ad un punto interrogativo sulla persecuzione di questo rialzo, ma ne parliamo alla fine del video quando facciamo analisi tecnica per la giornata di oggi. Passiamo all'argomento del giorno che secondo me è quello più importante ed è quello relativo anche alla news del giorno più importante, scusate che è quello relativo al PONC che abbasserà i tassi di interesse di uno 0,25 basis point per il 97% quasi un'animità, addirittura qualcuno dalla giornata di ieri ha detto si abbassano di più perché nel Presidente Trump era favorevole ovviamente al ribasso anche dei tassi di interesse, ma questo insomma la Fed non deve rispettare diciamo il Presidente, ovviamente ci sono degli influssi ma delle influenze, però non è che sono diciamo scontate queste cose, comunque si seguirà secondo me la strada che aveva già prestabilito di un ribasso di uno 0,25%, quindi 25 basis point. Allora questo dovrebbe avvenire fra pochissime ore e insomma nella nottata diciamo pomeriggio sera di ore italiane se siete in Italia. Allora, cosa ha promesso Trump? È perché l'industria cripto ha fatto movimenti da gigante proprio a causa della vittoria di Trump, vi faccio vedere anche questo che è il prossimo grafico che andremo a vedere appena finiamo questa serie di dati, e questo grafico tra le altre cose indica anche questo Max 2 ragazzi, che qui era già segnato da tanto tempo, adesso vediamo poi cosa significa. Allora andiamo per K-Point, allora Donald Trump diventa il Presidente degli Stati Uniti ed è il primo candidato ad essere pro cripto in maniera così dichiarata, tra le altre cose questo è uno dei parlamenti americani più cripto della storia, perché quasi tutti quelli eletti sono a favore, cioè molti di quelli eletti, la maggioranza sono a favore delle criptovalute o si sono espressi a favore delle criptovalute. Anche per questo Bitcoin ha raggiunto questi prezzi stellari e senza ombra di dubbio la vittoria del candidato Trump è dovuto anche molto al fatto che il suo appoggio era appoggiato appunto da moltissimi che facevano parte del settore delle criptovalute, oltre ovviamente al classico Elon Musk che anche lui comunque ha sempre espresso pareri positivi relativamente alla questione cripto. Allora, intanto la questione che Trump ha dichiarato in maniera molto chiara Strategic National Crypto Stockpile, cioè vorrebbe andare diciamo a creare quello che è una riserva strategica nazionale di criptovalute se sarà eletto per la seconda volta, quindi questa era stata una delle sue varie promesse. Andiamola a vedere comunque una per una. Allora, la strategic, cioè la riserva strategica nazionale per quanto riguarda gli Stati Uniti dovrebbe essere cosa abbastanza facile da fare. Vi dico abbastanza facile anche se sembra strano perché? Perché in realtà basta che Trump non vada a vendere tutti quelli che sono i Bitcoin che sono stati sequestrati dal governo americano, ne ha veramente tantissimi, quindi non li vende e dice che quelli sono una riserva nazionale. Questo non è, non sappiamo appunto se incrementeranno addirittura quella quota e aumenteranno la riserva di Bitcoin. Certo ragazzi, se si aggiunge oltre all'ETF anche il governo degli Stati Uniti che compra Bitcoin per detenere una riserva nazionale e detta legge per la prima volta nella storia di un governo importante, di uno dei paesi più importanti del mondo che fa una cosa del genere, che crea una riserva nazionale in Bitcoin insieme a quella dell'oro, beh ragazzi, diventa una notizia importantissima non solo per il pricing di Bitcoin ma anche per la stessa filosofia che c'è dietro ovviamente l'asset digitale, il re del cripto, il più, diciamo la rivoluzione che c'è dietro il concetto stesso di Bitcoin. Quindi questa secondo me non è una promessa vana, è una promessa che può essere fatta con grande tranquillità anche perché basta che mantengano questi oppure fanno finta che ne comprano un altro po' e quindi comunque è una promessa che il Presidente potrà mantenere secondo me con estrema facilità. Poi dal primo giorno andrò a licenziare Gary Kessler, allora ci sono uscite una serie di meme su questa cosa veramente incredibili che sono ovviamente i meme di Gary che cerca lavoro, se volete assumerlo in qualche modo ragazzi. Allora credo che questa questione qui sia anche rispettabile da parte del Presidente Trump che probabilmente farà esattamente questo anche perché comunque Gary Kessler è una figura scomoda che più volte è stato ammonito anche da diverse personaggi anche non solo appunto del settore del pro diciamo repubblicani ma anche da altri pro democratici anche perché comunque si era mostro forse borderline, forse con un accadimento molto importante nei confronti delle cripto quindi in molti non l'avevano visto bene quindi credo che caro Gary ti insomma aspettano diciamo giorni diversi ovviamente lo ricicleranno in qualche altro posto comunque penso che anche questa promessa di Presidente Trump sarà mantenuta. All bitcoin will be mined in America questa è una invece promessa molto interessante che Trump ha detto anche che tutti i bitcoin devono essere minati negli Stati Uniti perché con l'avvento di Biden tutti insomma le sue regolamentazioni che avevano imposto di vieti vari eccetera aveva aiutato la Cina e la Russia a continuare diciamo ad avere la restante quota di bitcoin e quindi Trump ha dichiarato più volte che noi dobbiamo riportare il mining all'interno degli Stati Uniti. Allora questa è una promessa un po' più complicata da andare a realizzare però anche qui il mercato sconta che sarà approvata. Vi faccio vedere quelli che sono i risultati delle variazioni delle sette aziende più importanti del settore del mining per quanto riguarda insomma il livello mondiale guardate i numeri stellari che ci sono stati ieri 20%, 26%, 18%, 11%, 17%, 9% insomma eccetera e hanno fatto diciamo delle buone performance. Sono ancora comunque molto lontani dal raggiungere massimi che avevano raggiunto per esempio nel 2021 vediamo anche sia Mara per esempio che è molto lontano ma anche Riot che è lontanissimo insomma quindi non è che siano messe benissimo queste aziende di mining però sicuramente hanno beneficiato dalla notizia delle elezioni di Trump. Ho un po' il dubbio che da questo punto di vista ci sia stata una buy on news più che altro perché questo? Perché nelle settimane scorse non c'erano state avvisaglie di questo movimento non avevamo visto granché su diciamo le aziende di mining forse solo questa Iren aveva insomma avuto delle settimane leggere però se guardiamo anche leggermente rialziste anche qui Marathon non era diciamo così salita tanto insomma una barra di congestione quindi in realtà Riot è quella che ha preso un po' più di tutti ma viene comunque da un trend ancora di bassista quindi non è stato invertito secondo me in questo caso questa promessa magari ci vorrà un po' più di tempo però probabilmente anche in questo caso Trump sarà fedele alla quello che ha dichiarato Fed Rate Cuts cioè taglio dei tassi di interesse favorevole insomma al taglio anche qui ragazzi non c'è neanche da parlarne sicuramente avverrà ma perché semplicemente la banca centrale americana lo ha già definito e deciso. Allora sono molto interessanti queste promesse perché sono palesemente politiche tra virgolette cioè sono tutte cose come avete visto che sono facilmente facilmente rispettabili perché la prima praticamente basta non far nulla e l'hanno rispettata la seconda è cosa fatta ormai era probabilmente già nell'aria l'unica un po' più complessa è questo del mining basta una regolamentazione comunque non è difficile andarla a modificare in modo tale da dare spazio ai miner è quello dei tassi di interesse non spetta neanche al governo americano quindi sono delle frasi un po' fatte. Allora Trump rispetterà al 100% probabilmente tutte queste promesse fatte alla crypto industry ma quello che effettivamente è più importante di ogni cosa è l'atteggiamento di un'amministrazione insomma quella degli Stati Uniti pro crypto e quindi tutti si aspettano soprattutto un favore da un punto di vista anche di regolamentazione per quanto riguarda le altcoin che a questo punto diventano un nuovo mente sotto l'occhio del ciclone ne parleremo tantissimo nei prossimi giorni ragazzi anche su progetti specifici quindi mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto vi faccio poi vedere invece quello che è successo a questo grafico e così chiudiamo il video dove andiamo in pratica a parlare della questione legata al breakout di analisi tecnica grafico settimanale molto lungo per farvi comprendere che il livello di 72 mila dollari è molto importante che deve essere mantenuto entro la chiusura della settimana domenica per indicare che questo breakout è definibile come realistico quindi vero vi faccio vedere anche un'altra cosa ragazzi questo breakout è una barzelletta rispetto ai trend che noi dovremmo avere e che solitamente hanno gli asset finanziari quando fanno un breakout di questo livello perché in realtà si deve andare a ricreare teoricamente si va a ricreare una curva di trend rialzista completamente nuova una roba del genere lasciate stare i prezzi però teoricamente dopo un breakout di questo livello magari le varie settimane di testing per vedere se regge e poi si crea un nuovo trend questo nuovo trend può essere magari che faccia una cosa più difficile insomma no ovviamente non è che deve essere lineare però in realtà si crea appunto un nuovo trend che tendenzialmente ha tutta la possibilità di arrivare intanto ai 100 mila dollari entro la fine dell'anno ne abbiamo parlato tantissimo soprattutto nei settimane scorse ma poi riprenderemo insomma anche nella prossima settimana dove faremo inizieremo ad avere un focus diverso insomma su tante cose nel settore delle cripto e poi insomma anche di più perché in realtà più saliamo più il rialzo dei prezzi si assottiglia in termini percentuali cioè 10 mila dollari non sono più gran cosa perché sono tipo il 11 10 per cento scusate 12 per cento del dell'incremento del pricing quindi in realtà la conferma di questo livello di breakout è la cosa veramente più importante vi faccio vedere anche un'altra zona qui avevo segnato mesi or sono un livello dopo il quale diciamo si poteva verificare il massimo 2 di questa fase della bull run di bitcoin l'aria esattamente iniziata ieri quindi l'aria iniziata nella non scusate ieri questa settimana ed è un'aria che probabilmente si aggirà intorno a questa zona qui cioè tra la fine dell'anno e i primi mesi del 2025 cioè dobbiamo andare a fare un massimo di periodo massimo relativo ed è quello di cui stiamo parlando veramente da un sacco di tempo ragazzi quindi vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane il breakout confermato è il segnale più importante c'è solo uno scenario molto negativo cioè il fatto che a livello settimanale questo breakout non venga mantenuto né questa settimana e quindi si vada a creare una shadow in pratica che ci riporta sotto i 72 mila dollari entro un paio di giorni e quindi qui si crea una shadow con un fake breakout quindi nuovamente sarebbe una cosa molto brutta oppure la prossima settimana questo breakout non venga confermato e quindi ci sarà un magari una candelona rossa che riporta tutto sotto i 68 mila dollari in quel caso fake breakout ancora una volta perché è vero il breakout verrà confermato alla chiusura della settimana ma ha bisogno anche della settimana successiva per fare una nuova impennata inutile che ve lo ribadisco e confermarlo definitivamente alcuni si dicono che ci sarà il pullback qui non avviene solitamente a livello settimanale con una distanza del genere è troppo piccola questa distanza dovremmo assistere ad un'impennata ancora maggiore dei prezzi prima di poter parlare di un'eventuale fase di pullback in questo modo secondo me tra le altre cose se il mercato ha voglia di continuare a salire difficilmente darà un pullback su questi prezzi dei 72 mila dollari perché è troppo facile ancora una volta è anche vero che come vi dicevo nell'ultimo video bitcoin ha fatto cose in questi ultimi mesi che sembravano scritte sui libri di analisi tecnica veramente l'abc folle comunque in linea di massima esiste anche un trend che sta delineando che è questo qui a livello settimanale ed è un canale rialzista che è lo stesso in pratica che aveva già delineato nei precedenti trend al rialzo ed è un canale con pendenza abbastanza interessante è vero non si potrebbe utilizzare una retta in questo caso per un grafico logarittmico ma sono pochissime settimane quindi è assolutamente irrilevante la differenza perché dovrebbe leggermente curvare verso la fine ma in poche settimane non c'è differenza quindi tendenzialmente questo potrebbe essere l'andamento di bitcoin nei prossimi mesi bene ragazzi allora fatemi sapere che cosa ne pensate di questo rialzo siete sopra al carro parleremo anche molto delle altcoin che hanno fatto numeri pazzeschi vi faccio vedere anche eth che per la prima volta si è iniziata a muovere in maniera interessante vediamo se confermerà l'andamento ha fatto un mercato di questa barra di congestione su questo livello di resistenza rotto il quale inizierà un nuovo trend qui ha girato in pratica ne parliamo nei prossimi video ciao a tutti